Il problema è che attualmente siamo col capannone completamente scoperto, quindi inagibile. Abbiamo gli uffici allagati, è un disastro. Non sappiamo da che parte prendere, da che parte cominciare. Dopo giorni di tempesta a prevalere ora la disperazione, gli imprenditori della zona di San Giacomo nel comune di Conegliano sono in ginocchio. Attività sospese, locali pieni di acqua, macchine danneggiate, tetti bucati. Io ho quasi 70 anni e una situazione di questo genere non l'ho mai mai vista. Noi abbiamo danni per oltre 100.000 euro. In questa azienda ci sono i mezzi letteralmente bombardati dalla grandine, dal tetto. L'acqua continua ad entrare con il rischio di un crollo. Accanto la situazione non cambia, i segni sono visibili. I dipendenti, assieme all'imprenditore, hanno cercato di mettere in sicurezza quello che potevano per notti intere. Sono tre notti che noi stiamo veramente vivendo con ansia a questi momenti. e alla notte, ieri notte eravamo qua, alle 10 e mezza, fino alle 2 di questa notte, pioveva acqua dappertutto. E noi siamo pieni di macchinari elettronici, punzonatrici, presse pieghe, cesoie, tutto gestito naturalmente da computer e da sistemi di software. e chiaramente la ripresa è difficile, molto difficile. Poco lontano, altra azienda storica, sembra una guerra. Questa ci racconta il presidente. Sì, ci siamo svegliati la mattina con una situazione incredibile. In pratica gli stabilimenti sono inagibili. Non sappiamo per quanto tempo avremmo bisogno per rimettere in funzione gli impianti. In queste ore stanno cercando di eliminare tutta l'acqua entrata ovunque. E soprattutto chiudere tutti quanti i fori che abbiamo sul tetto, che sono dovuti alla completa rottura di tutti i cupolini per l'illuminazione. Sono circa 2.200 metri quadrati di cupolini che non esistono più. Lei ha fatto una stima dei danni? Ma è difficile in questo momento fare la stima perché non sappiamo anche tutti gli impianti elettrici che in che situazione sono, però sicuramente sopra il milione. Situazione fotocopia di quasi tutte le aziende colpite drasticamente dalla grandine. Non c'è ancora nessuna data per una possibile ripartenza delle attività, anche perché... Abbiamo chiamato anche imprese per cercare di risanare i tetti. Sono chiamati da mille altre aziende del posto e quindi non hanno più materiale, non hanno personale neanche per intervenire. È un dramma che io non so come andremo a risolvere. Grazie a tutti.